Divertente e piacevole il servizio di Ieri, 14 febbraio 2016, alle Ieri intitolato San Valentino Escort. Questo servizio così ironico, a firma di questa Iena, ci fa vedere appunto Gregorio Di Diase, che è un uomo, un ragazzo, il quale seguendo il consiglio di un amico per allevare l'ansia invita una escort di una prostituta di lusso a casa sua. Ovviamente l'ansia inizia da l'inizio, infatti la donna vuole avere a che fare con lui a livello intimo, ma una fortissima ansia non riesce a sblocchiarlo, tanto che l'uomo appunto non consuma un rapporto ma sta lì e tra il brusco e il brusco si trova a dover parlare, interloquire, a confrontarsi con una ragazza, con uno quindi il prossimo di lusso. E vedremo delle belle, infatti non si sblocca la situazione, da ragazza infatti si vede appunto questo uomo che è legato molto alla mamma, infatti da essere in livello di mare mai visto due tette lui risponde, solo quelli di mia mamma, che forse sono un po' cadenti. fino poi ad arrivare alla scenetta in cui la mamma entra nella casa, sorprende lui con questo escort che sta nel letto e finisce qui. E poi l'altra parte del servizio si vede lui appunto che va in strada a cercare una persona con cui fare sesso, ma incontra in strada una trans, una persona di genere transessuale con cui per l'appunto si intrattiene a livello verbale. Anche qui non si sblocca, dice che ha visto solo la mamma e tutto quanto. Il servizio in questione è molto divertente, allegro e piacevole, è un servizio che si fa, ben apprezzato. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate e complimenti a questo servizio per chi va realizzato che sa veramente essere divertente.